Uno scandaloso passato di perversioni e distruzione, così Evan Rachel Wood ha parlato al Daily Beast della sua travagliata storia d'amore con il rocker Marilyn Manson. Ormai superati i traumi e diventata finalmente madre, la giovane attrice ha raccontato al tabloid alcuni risvolti della loro vita privata che hanno effettivamente scosso in media affiancandola. La già spesso criticata immagine del rocker ha un rapporto di coppia fatto indubbiamente di esagerazioni e dissolutezza. Per ciò che riguarda questi aspetti però, la ragazza è sembrata attribuire soprattutto le critiche alle persone che stavano vicino alla coppia. Le persone erano tremende e ha infatti confessato la ragazza. All'epoca non ero mai stata esposta a questo genere di crudeltà da parte di estranei. Archiviata alla parentesi Marilyn Manson, comunque i due sono stati insieme con qualche interruzione tra il 2006 e il 2009, adesso Evan Rachel Wood si gode la sua carriera lontano da Marilyn Manson.